ma dovrei riescerci no no non riscattate nulla è che non rifaccio nulla non è su non so cosa è successo se non c'è io ero in live poi bitrate è sceso a zero col quadrato verde OBS si è frizzato processore al 100% ho dovuto buttare giù OBS la connessione c'era la connessione c'era e quindi non lo so ma io sto compiuto e guarda te lo giuro sono veramente fatti coglioni sono veramente tentato di rimontarmi il vecchio veramente e andare tranquillo con quello penso proprio che fa così in questi giorni che non faccio non farò live vedo veramente rimontare il vecchio non è possibile devo stare con la paura ora pure sta cosa succede bene credo che non si sia interrotta la live vero? c'è nel senso ecco il fuoco qua c'è nel senso che non è crashate mi hanno fatte due è spuntata la schermata quella è spuntata la schermata quella classica si è proprio interrotta? bene 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 non è che l'ho buttata giù ho chiuso ho buttato giù OBS va beh non ho parola mai è uscita la scheda è uscita la scheda è uscita la scheda bene benvenuti ragazzi benvenuti il giorno del passo sarà sempre meglio il giorno del passo andrà meglio costello di mamma e vabbè paziente ormai guarda sono tranquillo non mi incazzo nemmeno tanto è trofa incazzarsi non serve a niente o tu oл o 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 just justice o o è va bene sinistra guarda mi accontenta andare al comune a risolverti la tua carta d'identità fasulla il tuo codice fiscale fasullo non è nemmeno cosa di comune codice fiscale e tra l'agenzia è l'entrata tra l'amco poi e l'ora si fa detto vado a coppia di andare al comune no di andare ci sia l'entrata c'è una docca di pezzo aia via dalle basse eh si dovevo mozzicare addio mamma mia mamma mia che padre questo è serio culo ah doppio è un effetto doppio parla adesso e se sputano sputacchiano come le persone anziane ma infami non ce l'ho più in faccia me l'aspetto no grid perché ci sei tu grid no non l'ho colpito è passato verso questo mi ha colpito però non sto trovando niente ragazzi nessun attivo che mi possa si possa sterilizzare con il libro si perché può essere ci sarà ultra grid spiegato ah abbiamo tolato la traccia quindi dobbiamo cercare adesso mettermi a meno 10 no avviso meteo come retta meteo ancora abbiamo dai va bene va bene va bene va bene va bene finalmente finalmente un po' di danno cazzo vent'anni cioè guarda quanti piani se stai crescendo ci hanno dato il danno al 514 ok che abbiamo si è famiglio che ci aiutava però non era possibile si è buggato c'era bisogno va bene questo è un champion oh 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 si che cosa fa no credo sia semplicemente di nuovo vento queste raffiche di scirocco non spariscono tanto così freddo ma quando il maestro guarda guarda come posso dire di no con le bombe gratis no uno eh per forza non potevo fare altrimenti che stanza di merda che stanza di merda proprio da infame quella stanza oddio ti odio ti odio ti odio ti odio ti odio stai mi lontano ma basta ma basta basta queste cose qua merda 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 ciao 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 ma poco ok guarda che giro lungo per tentare di trovare un negozio che non c'è vabbè nel negozio non c'è andiamo poi perché sono venuto fino a qua diciamo bene così chiediamo tutto no questo non si può fare nulla così tanto questo leggo tanto almeno esplode via 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 no odio questo e giustamente quando è che si toglie il patto ovviamente del primo danno che prende al boss ovvio 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 e cosa mi dà se sono dei HP up HP up queste due quindi dobbiamo scendere qua uno due ah io ero vabbè non ho più le bombe infinite però c'è una Tinted che non è che mi porti chissà quale utilità però eh vabbè se lo sconfitto è l'ultimo ok vado per il secondo quello mi fa veramente schifo ultimo ah 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 si hanno rotto si sa ma il problema è ecco il problema è che mi servirebbe qualcosa che faccia danno mentre io sto fermo però si potrebbe aiutarmi se ci entra adesso pillola vuota ancora e così non mi serve a un cazzo una minchia basta con ste cose qua basta 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 infatti effettivamente nemmeno con mamma adesso quanto mi sta salvando infami quanto mi ha salvato infami posso già no come si chiama il negozio sempre se come dice Sisa non ci sia ultra grid stavolta che mi da veramente saldi di steam e me ne sbaglio tutto di culo che ladrato eccolo qua la verità inizia adesso ci sono i saldi di steve scontati ci sono i saldi di steve scontati i saldi ci sono esatto c'è guarda che guarda che culo guarda che negozio del culo che ho per trovare madonna il boss è grande il boss è grande come stanza quindi maggiore vale sia aspetta ho sentito che le sono le 3 ma dai fortuna 4 e adesso l'ultimo l'altro cuore via andiamo a prendere premere l'ultimo possantino e maronna ce l'ha bisogno via la foglia non dovrebbe funzionare qua perché effettivamente perdo tutto però mi è rimasto il fuoco fa non serve un cazzo che poi più tardi devo chiamare su fai una telefona dal mio direttore intanto se gli dico che non sto benissimo non so come si viene una crisi di nervi poveretto non mi interessa non mi chiamare prezzo speravo di evitarlo lì no si è bloccato animale vaffanculo mangio di merda guarda piuttosto ok con parecchi danni ce l'abbiamo fatta fammi esplodere le tette qua va bene andiamo a fare il boss vediamo cosa ne esce ah quello con le bombe con la fase questo preso proprio dalla grid mod mi ha sparato dal culo guarda sparte il caccio del patto guarda è l'ultima delle mie probleme infatti cattivo ma porco ma porco eh che casino tantissimo vabbè dai guardami niente sono più lento di lui oh la finiamo di tirarmi le robe c'è pure aperto vabbè seppur aperto il patto angelico dammi un cuore che fatica due cuori d'anima i proiettili potrebbero occupare per non colpire Isaac fuori e lacrime spettrali poli d'anima guarda voglio no dobbiamo fare il coltello quindi via abbiamo il volo e le lacrime spettrali che mi possono aiutare un po' si ho diventato dell'ostro dai però che cazzo di portello queste mani si ancora grazie va bene posso fare così non era proprio conveniente ma me l'ho preso un quale e mezzo e va bene queste cose che spuntano dal terreno allora vedo che io ho le spine che non fanno più niente quindi ok quindi vola vola Non avere qualcosa come attivo è una cosa veramente orribile. Va bene sis. L'originale se sarei stato con il doppio tipo di parola, vabbè. Ti ha regalato Nicola prima, vabbè? L'ho usato senza... Ne ho usato, è stato suo. Va bene. Grazie a San... Va bene, figurati se mi veniva accorto di quello che avresti. Sono talmente concentrato sul gioco... Il mio fa crescere la live, no, no. Ti prendo, mi porto. E' già... Ah, di merda, avrei fatto essa. Lo lascio lì, perché tanto non... Prendo sempre danno, quindi... Errore 404. Un giratore di sarcasmo disattivato. Libro. Tears up. Va bene. Quindi non vedo un cazzo namica... Di quello che ci sarà... In questo piano. Bene, 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 bene. Ma non era... No, non era stato nemmeno il gioco. Tears up. Non era stato un gioco. Non era stato un gioco. Non era stato un gioco. Allora, lo faccio... Guarda qui, non è stato un gioco. Non è stato un gioco. E' comunque... Non è stato un gioco. in perfetta forma quindi oggi non vi sto intrattenendo minoramente, mi sentivo meglio prima, sto sentendo male adesso. Mai voglio finire la run, oggi, no di solito sempre, ragazzo di chiame, non minchia, cazza quieta. Tu non stai mai calmo, tutto a caso, che non è tanto a caso, va bene. Non ti sei venuto in life, va bene. Tanto mi avete costretto pure a capire la rota. Mi avete costretto a capire la rota. Le altre tutte. Tutte. Credo che io ciò. Aia. Aia, due, la vendetta. Ma scusa, non doveva... Sai che fosse sbagliato? Non doveva aprirsi la porta... Non doveva aprirsi la porta con cui io ammazzavo, aprivo col coltello. Oppure c'era la numero doppio procedimento per entrare la... Quindi ho sbagliato. Aspetta, com'era? Uuuuh, vuoi vedere che prima era quella dove dovevo entrare con i cuori? O comunque ho sbagliato. Ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato. Dove dovrei andare, però? Positivo? No, forse sai che comunque possiamo continuare con il negativo. Se non ricordo male. Manca il... Vediamo. Delirium è stato fatto, però. Boh, andiamo avanti. Ormai finiamo la... Come va, va. Ma quello che volevo fare con il coltello non sono potuto fare. Mannaggia. E ai, sai quanto è complesso uno. Non mi ricordo mai. Che dove. Allora! No. No! Quante cose? Quante cose? Quante cose? Que cosa cosa? Eeeh, quante esposioni, sto dicendo robber, nob. Ok, mi sono bruciato, ho preso danno le coppe di quella cazzo, eh vaffanculo, vaffanculo. Cacchè sta cagata? Allora intanto andiamo via la sostanza di merda, non mi serve. No, Fabio, ci ho fatto caso, ma dopo tarte, dopo tarte. Sai perché mi spuntano le bombe adesso? Sì, roviniamo tutto, roviniamo. No, tanto rovinata no, tanto rovinata non è, ok. Ormai facevo tutto a caso, dove dobbiamo andare? Abbiamo il tuo cuore in mezzo e ne partiamo uno intero, in queste piani. Quindi, cosa mai potrà andare stop in tutto questo? Bombe chiave, vabbè. Tu sei il king delle minchia. Vabbè. Buono. Buono. Ma prendiamo la monetina? Sì. Sì. No, vabbè. Subito cuore di mamma. Vediamo se riusciamo a recuperare due cuori. Sì. Almeno ho altri due. Senta morirci, magari. Uno. L'abbiamo preso. Ah. Anche un altro. Cosa ne penso, si sa. Penso che... Giancarlo Magalli, che non viene più utilizzato per i programmi, è un qualcosa di veramente veroignorso. Eh? Ah, porca miseria. No. No, ma se no. Pianco è d'accordo. Ok, hai visto? L'importante è rendere d'accordo. Sì, sono poi... No. 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 No, c'è stata la clerice. Ti sono capisci un cazzo. Continua a guardarti la merda che ti guardi... Almeno la clerice non ha il codice di scala errato, eh. No. Ah, no. Eh, allora. L'abbiamo preso giù, andiamo giù. Vediamo cosa succede. facciamo mettere la lan totalmente a cazzo tutto cuore che ormai cellule staminale che noi non subito 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 no mi ha preso ma che ha figlio di una mignota sto figlio è una mignota va bene tanti cuori non nemmeno ma che lato coltello fra i coltelli cos'ho detto coltello che fa coltelli e fantozze una ragazze nere che fa batte bello sapito ragazzi si ok va bene grazie bene 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 scossa adesso devo chiudere quindi effettivamente ci sta effetto questo l'ho fatto a forza va bene ragazzi chiudiamo ripeto non sto benissimo quindi diciamo che l'abbiamo tirata avanti 36 minuti dopo il crash della live che non ditemi il motivo non lo capito mai avevo tra l'altro veramente il processore al massimo quindi credo veramente si sia smicchiato il processore e allora ragazzoni belli grazie per aver seguito in questo live problematica e allora mi ricordo un po' di roba a sto punto domani non c'è live poi tutto sta dipende io dovrei lavorare ora vediamo come sto ora vediamo come sto mi vado a misurare un po' se ho la febbre un po' di temperatura vediamo caso vi aspetto sabato per la per la lei delle per la batteria delle sigle e per le lei normali ritornano giovedì sempre se stiamo così ok nel senso che dovendo lavorare lunedì mattedì mercoledì con i bambini con lo scuola a bus non riesco a fare live ok quindi dovendo lavorare almeno fino al mercoledì poi vediamo adesso come sto se sto male probabilmente appena lo chiamo lui probabilmente mi dirà lui non venire vediamo quindi è tutto work in progress vi dico com'è attualmente il programma sabato la batteria delle sigle intorno alle 2 e poi direttamente giovedì con Mario Party e poi venerdì con Kirby quindi per tutti i giorni vi lascio senza live magari vedo di sistemarmi il computer rimettendomi il vecchio perché ci sono problemi quindi signori io vi auguro un buon pomeriggio per farmi vedere se c'è qualcuno a cui fare un raidino almeno tanto andiamo in sigla finale se sta zitto questo qua ok vi porto da Leon dai lo andiamo a salutare ride Leon passiate da Leon salutatelo io vi do appuntamento quindi sabato per la batteria delle sigle siateci tanto adesso non gioco più al The Ring no grazie a Dio non c'è non c'è non c'è del The Ring c'è lo 9 ma senza te penso che vi porto da Leon quindi buon fine settimana ragazzi noi ci sentiamo sabato con la batteria delle sigle terza puntata stavolta ci saranno delle sigle decenti le categorie sono buone e vi aspetto e poi vediamo vi faccio